Angelo che è successo? Ande 2007, ha incendiato la macchina pure qua! Serena è colpa tua! L'anno scorso era colpa di papà, ma è colpa tua! Figa, fica, è in diretta, no, si incazzi in diretta! Angelo, stai facciando... Gratis! 5-5-4-0-0-7-6 a Napoli! C'è un altro guaio qua! Il dottore non parla! Non mi interessa a me, è Angelo! No, qua dice che devi aspettare l'autorizzazione alla grattacca di Napoli! Cittadini per snarsi di persone! Per se questo nulla ossa al comune residente, solo quando l'ufficio Anagrafer aveva avuto risposta positiva, si potrà procedere a darci al documento con le stesse modalità di chiesta residente!